C'è più sicurezza sul lavoro ad Arezzo e in Toscana rispetto al resto d'Italia. Lo dicono i dati dell'INAIL e dell'ANMIL diffusi in occasione della giornata nazionale per le vittime e gli invalidi del lavoro. Anghiari da location scelta per le celebrazioni regionali. In provincia di Arezzo le denunce di infortuni dal 2012 all'anno in corso sono diminuite del 10,3%. Note dolenti invece per le malattie professionali. Abbiamo avuto a livello nazionale un aumento delle denunce di infortuni dell'1,3%. Sono comunque anche in crescita le denunce di malattia professionale. La regione toscana ha aumentato le denunce di infortuni del 0,7%. Ha però avuto un decremento, se così si può dire, dei decessi. Ha avuto 4 decessi in meno rispetto al solito periodo del 2016. Il territorio aretino si è distinto in questo perché ha uno 0,3% di calo delle denunce di infortunio. Ha un calo notevole nelle denunce di malattia professionale. Purtroppo è rimasto stabile nella conta dei decessi. Certamente c'è ancora molto da fare perché, come possiamo notare dai dati statistici, gli infortuni sono ancora veramente tanti. È vero però che se noi utilizziamo giornate come queste per sensibilizzare verso la sicurezza, riusciamo a fare dei passi davanti importanti e riusciamo a costruire una consapevolezza migliore sia nei lavoratori che nei datori di lavoro per adottare le tecniche migliori e salvaguardarci. Grazie.